Il dubbio era anche su una presunta posizione di partenza di fuorigioco, era anche quello che stavano verificando, probabilmente il motivo per cui è tornato indietro un paio di volte Massimo. Iemmello sta mettendo il pallone sul dischetto, tornato il VAR in Coppa Italia dagli ottavi di finale, VAR subito protagonista in questo match tra Napoli e Perugia. Iemmello parte il destro, Ospina para Ospina. Il riscatto di Ospina con tutti i compagni vicino ad abbracciarlo. Si resta sul 2-0, Spreca, un'occasione importante per riaprire il match. Iemmello, i volti dei due allenatori che dicono tutto su questo momento. Ancora il calcio d'angolo per il Perugia. Il pallone dentro, Ospina, Cassuo la sfera.